Ecco qui il gruppo che sta arrivando, eccolo qua, compatto, bellissimo, ecco qui, e si apprestano alla salita di San Dolcese, le macchine della carovana, ecco, è oramai entrata una tradizione, anche questa corsa, è una Milano-Sanremo dell'oltregiogo, ecco lì. E questa è la fine della corsa, la polizia stradale che non finiamo ormai di ringraziare per il fatto che sta facendo, anche l'aiuto dello sport, ecco qua, bene, anche la polizia municipale, tutti stanno dando una mano alla riuscita di queste manifestazioni, bello.